ok giornali buongiorno buongiorno a tutti ben ritrovati cari telespettatori di falo tv come sempre tra poco vedremo con il nostro touchscreen i quotidiani carlino corriere messaggero tutti lì in fila per sfogliarli e dare un'occhiata alle notizie più importanti il salto del giorno prima però con il calendario oggi è san bernardino il sole è sorto alle 5 e 37 tramonterà questa sera alle 20 e 32 nuvole minacciose all'orizzonte che preannunciano giorni di cattivo tempo questa è la fotografia del nostro osservatorio meteorologico che ci dice anche la temperatura alle 7 e 30 del mattino 17 gradi 17 gradi e poco più mentre per oggi le previsioni indicano un cielo da poco a parzialmente nuvoloso con nuvole medio alte addensamenti sui rilievi appenninici dal pomeriggio e sera dal tardo pomeriggio possibilità di piovaschi sulle zone appenniniche settentrionali le temperature sono stazionarie nei valori minimi ed in lieve diminuzione nei valori massimi il mare sarà poco mosso andiamo a vedere domani domani il tempo vedete comincia a peggiorare avremo precipita rovescio temporali sparsi in mattinata sul settore centro meridionale e nel pomeriggio anche sulla fascia collinare temperatura in diminuzione nei valori massimi venti di brezza tesa o moderati mentre saranno sud orientali lungo la costa il mare sarà da poco mosso a mosso e venerdì venerdì 22 ecco invece le precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o di temporale con temperature in diminuzione venti nord orientali il mare sarà mosso per i prossimi giorni la tendenza è quella di instabilità avremo condizioni di stabilità che continueranno a caratterizzare l'intero fine settimana e l'inizio della settimana prossima allora cominciamo a leggere i giornali la notizia ovviamente in evidenza è quella che riguarda il calcio scommesse tantissimi sono stati tantissime sono state le persone fermate in giro per l'italia nella provincia di pesaro in particolare ha fatto scalpore la fermo di questa promessa del calcio eccolo qua giacomo ridolfi gli occhi sgranati davanti ai poliziotti poi le lacrime l'arresto gli agenti sono andati a prenderlo all'alba di ieri mattina nella sua abitazione vicino alla chiesa di cristo re a pesaro in quella l'interrogatorio forse già domani in quella sede il gip deciderà sulla convalida del fermo per l'accusa lui ed altri compagni facevano perdere il sant'arcangelo per soldi da scommessa del calcio dunque a al calcio scommesse il personaggio giacomino genio del campo con qualche sregolatezza fuori le gogliardate del rosso quando si presentò a raduno con il naso pesto per un pugno che aveva ricevuto in un locale era il primo tifoso della vispesero da prima pagina l'abbraccio sulla balaustra del prato con bugaro giacomino in mezzo agli ultra nel giorno della vittoria con il castelfidardo perché ridolfi di questi tempi era infortunato e questa è la notizia dicevo in evidenza che viene riportata un po su tutti gli altri giornali così come spazio viene dato al passaggio per esempio del giro d'italia ma anche e qui andiamo sulla pagina di fano alla sentenza alla sentenza arrivata ieri su una vicenda di qualche anno fa violentò la moglie in un garage un cameriere un cameriere di fano anche se originario del sud è stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione è stato condannato ieri avanti alla gup in sede di giudizio abbreviato questo 36enne cameriere in un ristorante pizzeria residente a fano anche se originario del sud come dicevo che all'inizio del maggio dell'anno scorso venne arrestato con l'accusa di aver violentato la moglie nel garage di casa legandola e tappandole anche la bocca con un nastro adesivo più sotto sempre sul carlino di fano la casalinga che vuole pulire la politica vincenzina turiani promette battaglia la candidata di altre marche sinistra unita si è presentata al caffè del porto lei dice ascolto solo la gente e dico subito no all'ospedale unico affosso segliore da fossombrone un operatore del 118 attende un'operazione da due anni e mezzo lo denuncia alla giornale protesta un addetto appunto del 118 fossombrone mi devono ancora chiamare chi lo deve chiamare lo deve chiamare l'ospedale regionale di torrette per operarlo ad una mano da piobbico invece il presidente del club dei brutti ha fissato la data della prossima festa il re dei brutti ha festeggiato i suoi 50 anni stiamo parlando di giovanni a luigi lo vedete in questa fotografia che ha compiuto mezzo secolo e sono arrivati un po da mezza europa e non è mancata la festa organizzata sorpresa dagli amici nella sede dell'associazione poi sempre da fossombrone invece isola del piano dove tra l'altro sono stati fermati in una macchina quattro giovani ubriachiali fino all'inverosimile scrive il giornale talmente ubriachi che poi ovviamente al guidatore un diciottenne l'unico diciottenne tra l'altro dei quattro gli è stata ritirata la patente il tutto è avvenuto il 16 maggio scorso lungo la flaminia nel territorio comunale di isola del piano pianeta sanità quattro mesi con gli ospedali quasi dimezzati il piano ferie di marche nord riduce e a corpa sull'asse peserofano ortopedia sarà orientata verso il santa croce letti ridotti in ogni reparto in questa fotografia vedete il direttore di marche nord aldo ricci attività programmata da giugno a settembre sarà ridotta notevolmente aumentando le liste d'attesa mentre la politica latita per non aumentare i costi si riduce l'attività a discapito dei cittadini più sotto invece le ferie di asur dal 15 giugno al 15 settembre nel territorio il periodo ferie durerà 30 giorni di meno intanto vedete qui la direttrice di dell'asur area vasta 1 maria capalbo andiamo sull'altra pagina invece la pagina nazionale del resto del carino perché in nazionale sul carino si parla questa mattina della vendita di don d'app da parte di massimo berloni che il fondatore appunto dell'azienda di fossombrone al colosso francese del lusso lvmh il fondatore resta con l'otto per cento i piani sono quelli di espansione verso l'asia l'operazione tra berloni e appunto la lvmh conclusa sì solamente l'altro ieri andava avanti da diversi mesi la firma soltanto lunedì stimata in tre anni una crescita di 35 milioni di euro ma stanno per essere cedute altre due aziende la teuco ai tedeschi e la bickenbergs ai cinesi le trattative sono in fase di conclusione la pagina di fano invece si occupa dei fondi europei per batteri costi che gravano sui cittadini energia patto per il risparmio cna aset ed erap al fianco dell'amministrazione sono previsti gravi fiscali rosetta fulvio invece del pd chiede al sindaco di difendere i posti di lavoro all'ocean e rosetta fulvio è stata una dipendente di ocean e quindi si è fatta carico di questa richiesta dopo lo sciopero dell'ocean che a fano ha visto una misera adesione pari al 28,4 per cento con 56 uomini e donne su 197 dipendenti che hanno manifestato supportati dai politici il consiglio comunale di fano approva all'unanimità un ordine del giorno presentata appunto dalla consigliera rosetta fulvi del pd che impegna il sindaco la giunta a farsi parte attiva in questo in altri casi della preoccupazione per la potenziale perdita di posti di lavoro mantenendo viva l'attenzione sugli sviluppi futuri e favorendo la logica della solidarietà e della unità poi cambiamo giornale andiamo sulla pagina di pesaro del corriere adriatico vedete il giro d'italia che ieri è passato anche nella nostra provincia la provincia che si fa bella in tv anche il sindaco sul san bartolo matteo ricci per seguire la carovana riprese mozzafiato che incredibile pubblicità dice matteo ricci ma tifosi anche in festa nella città della fortuna dove la carovana rosa è passata intorno alle 14 e 40 sotto un diciottenne denunciato siamo ad urbino i militari lo hanno sorpreso ubriaco al volante mentre anche qui la notizia di don d'app che punta sull'export a witton il 70 per cento della proprietà ma non ha niente a che vedere mi pare con il famoso marchio berloni resta al vertice e poi sempre dal corriere la pagina di faro una casalinga va in regione anche il corriere si occupa della conferenza stampa di vincenzia turiani che si candida come consigliera regionale no a degrado e vandalismo dice lei ora vogliamo indagini serie approfondite la sorella di ivan angelo pegan dopo l'apertura di un fascicolo presso la procura di durazzo dove il fanese era transitato stiamo parlando di ivan angelo che vedete nella fotografia il 43enne fanese scomparso nel giugno 2013 in albarina durante un viaggio per incontrare la fidanzata alba poi sotto restaurato un altro dipinto di san pietro in valle l'ha presentato nella notte dei musei l'assessore marchegiani il lavoro di letizia bruscoli ancora dai quotidiani il corriere adriatico progetto innovativo ma non per tutti stiamo parlando di edifici intelligenti comune e aset ed era pcna puntano alla sostenibilità ambientale e ai fondi europei il rischio da marotta il rischio è perdere l'ex caserma trasferita dal demanio al comune se inutilizzata tornerà allo stato barbieri sollecita il sollecita il sindaco bocciofila di marotta in grande spolvero premiata come migliore società dell'anno ottenuto alla 34esima edizione del premio marche di bocce che si è svolta a senigallia poi andiamo sull'altra l'ultima pagina del corio adriatico soltanto il titolo da senigallia la mia senigallia guarda al futuro mangialardi l'attuale sindaco non solo spiagge mare la città merita un ruolo da protagonista anche in campo culturale apriamo adesso il messaggero vis shock arrestato ridolfi nell'inchiesta sul calcio scommesse il ragazzo cresciuto in bianco rosso è poi arrivato in serie b l'indagine nazionale partita dalla calabria nei guai anche ortoli l'eroe della promozione del 2000 poi vedete che bella fotografia del giro d'italia una festa in diretta tv da fano a gabice le bellezze pesaresi in maglia rosa arriva in piazza del popolo a pesaro la super staffetta dell'esercito domani a pesaro l'iniziativa partita da lecce per celebrare il centenario del conflitto e poi il cielo il tempo si guasta cielo nuvoloso anche temporali tutto questo nel prossime nelle prossime ore la politica regionale rush rush regionali schierati tutti i big caccia all'ultimo voto il grillino di battista il 24 sarà ad ancona renzi e berlusconi alle muse il prossimo lunedì il secondo il 26 arriva anche vendola domenica pesaro e macerata il 25 parlerà nel capoluogo un'ora prima del leader del pd ex amga bonifica anche con il caldo il direttore pandolfi ammette ritardi il dirigente del comune rassicura sull'inquinamento tutti i valori comunque sono nella norma di legge i lavori proseguono mai prevista una riflessione per l'estate nessun rischio comunque per la salute con le temperature più alte pesaro studi il comune chiede lo sconto i locali sono dell'inps che incassa 156 mila euro all'anno ma il mercato è fermo vogliamo pagarne 100 mila la provincia bella vince la maglia rosa il giro è stata una festa ma anche uno spot pubblicitario grazie ad immagini mozza fiato riprese dalle tv di mezzo mondo la la corsa è partita da civita nuova marche ma la diretta rai proprio da pesaro per lo speciale sul teatro rossini poi sotto alle urne anche sant'angelo invado e isola del piano nella terra della jeans i due candidati vogliono archiviare in fretta la fase del commissariamento che hanno definito un danno per tutti chiudiamo con la pagina di fano via ad un progetto eco sostenibile per salvare l'edilizia in agonia l'assessore cecchetelli molti edifici pubblici privati si trovano nel degrado vogliamo recuperarli in maniera innovativa poi ancora sotto ocean per il 16 il futuro è sempre in bilico venerdì un altro incontro con i sindacati il consiglio intanto comunale approva all'unanimità un ordine del giorno la cronaca auto si schianta paura per l'impianto a gas è successo a fano proprio l'imbocco della superstrada fano grosseto vicino all'ingresso dell'autostrada a 14 l'uomo è rimasto nell'abitacolo ma l'intervento del 118 è stato comunque rapido altro incidente a san lorenzo in campo dove una ragazzina di 15 anni si è schiantata in bici contro il muro di una casa riportando fratture guaribili in 30 giorni è tutto per questa edizione di occhio giornali che torna domani mattina alle 7 30 in diretta grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti